La pubblicità che ha infastidito una certa finta a sinistra. I cosiddetti progressisti non ne azzeccano una neanche per sbaglio, perché sono l'incarnazione del male, perché sono solo figli del demonio. Dopo circa poche ore dalla messa in onda della pubblicità del Conad, con una bimba pensierosa e triste per la separazione di mamma e papà, è ormai chiaro del perché questo spot ha sconvolto così tanto l'aridità dei finti progressisti. Non è l'innocente Emma a dare fastidio, e non è nemmeno il suo gesto, non è l'immagine della coppia divisa accompagnata dalle musiche tristi di sottofondo. Non è nemmeno quella pesca non pesata, lo scandalo è che Emma esiste e che è l'unica che vede la triste realtà della separazione. I ben pensanti progressisti non possono accettare che questo sia pubblicizzato, che la separazione è un male, e non possono accettarlo perché è la verità. E nel loro mondo marcio e satanico, basato su una ideologia infernale, la voglia di raccontare un dolore per la separazione di mamma e papà deve essere soltanto interdetto. Sia l'ode e gloria a te, Signore mio Dio, venga il tuo regno. Amén. Amén.